Prima tappa a Varsavia alle 17, l'incontro con il primo ministro polacco Moraviechi, poi domani Milione arriverà a Kiev per l'atteso faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky a circa un anno dall'inizio della guerra, un modo per ribadire in modo netto ed inequivocabile che il governo italiano sta con l'Ucraina. Si parlerà ovviamente di aiuti e soprattutto di armi, tema quest'ultimo che divide anche la maggioranza, così come lo stop al super bonus edilizio, una decisione che Meloni difende e le opposizioni criticano. Abbiamo dovuto tornarci sopra per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo. Guardate la data, considerate quando si è votato e una settimana prima Giorgia Meloni era pronta a tutelare i diritti del super bonus e oggi ha disintegrato una misura. Ma il governo apre modifiche e nel pomeriggio a Palazzo Chigi assente Meloni ci saranno gli incontri con banche, confindustria e costruttori. Sul tavolo due ipotesi. La possibilità di un intervento per sbloccare 15 miliardi di crediti alle imprese oppure agire sulle banche per ampliare i margini di manovra per gli acquisti dei crediti d'imposta.